Oggi un altro video simpatico, vuota la spesa! Evviva! Ciao a tutti e bentrovati sul canale, Gabriele fa le smorfie ma oggi un vuoto la spesa... Vabbè, a gennaio ci sta, ma oggi un vuoto la spesa, anzi scusate l'oscurità che incombe Ma ragazzi, è sera, sono le 8, siamo appena tornati da aver fatto la spesa del dopo feste Quindi una spesa piena di pentimento, una spesa piena di dobbiamo rimediare Una spesa di buoni propositi, perché la prima spesa dell'anno è sempre piena di buoni propositi Perché abbiamo deciso di mangiare bene, di dimagrire e quindi abbiamo comprato solo roba pulita, senza additivi, senza conservanti Aspettate, stiamo cominciando a depurare la spesa Allora dai Allora, cominciamo subito con i tovaglioli di carta Questi non fanno ingressare Diremo tutti i prezzi, va bene, ma non dei tovaglioli Sì, 1,49 euro, 250.000 tovaglioli Carboidrati, cominciamo Come carboidrati per la settimana ho scelto gnocchi di patate 1,39 euro al pezzo Perché piacciono molto a Enzo Io li faccio per quattro persone, due confezioni una volta e due confezioni un'altra volta E quando Enzo torna da scuola, che dobbiamo andarla a prendere magari insieme, ho poco tempo per cucinare Gli gnocchi in due minuti sono pronti Gli gnocchi di patate, buonissimi Poi, 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 poi Ho preso due confezioni di taralli Taralli al finocchio 1,19 euro e taralli all'olio d'oliva 1,19 euro Erano in offerta queste confezioni, non so se siano le XL Però sono 500 grammi E' lo scontrino del Viagra Dai, 500 grammi a pacco Hanno degli ottimi ingredienti Niente di schifezze Oli strani Sono molto, molto buoni E li userò come accompagnamento alle zuppette che ho intenzione di fare in queste settimane Molto, molto buoni Poi Per la colazione del mattino E per quando magari Enzo vuole una merendina Qualcosa Stiamo andando 75 centesimi Su pane, miele o pane e marmellata Quindi la mattina io ho preso sia il pane di grano duro Che il pane bianco Questi due C'è il 0,69 C'è la confezione XL in grande ospetta XXL E la confezione normale al prezzo normale Sono buoni, gli ingredienti sono buoni La farina qua è raffinata però sono buoni E' raffinata quindi è per gente al tuo caso Sì, sì, sì Non ho preso quello integrale Non ho preso gli integrali perché già uno ce l'ho in dispensa Brava Poi e lo mangio solo io Signiamo con la patata perché la patata serve La patata salverà l'umanità Esatto E quindi ho preso non una patata qualunque ma la patata di Bologna dopo Patata Bolognese Buona L'ho già assaggiata 2,49 Salutiamo tutti i nostri amici bolognese Ciao ragazzi Mi raccomando quando veniamo invitateci Va bene? Certo 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 Pinoncino A bastoni alle olive Qua lo chiamano Questo ha dei buoni ingredienti E lo darò stasera a Renzino Aspetta Diciamo che ha solamente farina di grano tenero Olive verdi Acqua Strutto Farina di frumento maltato Lievito e sale Punto Io non arriccio la fronte su strutto C'è di peggio Come per esempio C'è qui Quella era 0,39 Due paninetti con i semi di zucca Che mi sembravano tanto earthy Invece no Perché hanno farina di grano tenero Acqua, semi di zucca Tritello di segale Fiocchi d'avena, sale Miglioratore della panificazione Già io qua Cosa è questo miglioratore? Stabilizzanti vari Farina di frumento emulsionanti vari Lecitina di colza Farina maltata di frumento Glutine di frumento Insomma una serie di cose che non mi piacciono Correttori di acidità Glutine di frumento di nuovo Poi c'è la crusca di frumento Il lievito La farina maltata d'orzo Semi di sesamo Fecala di patate Diciamo che è buonissimo il panino Dal sapore squisito Però già che ho deciso di mangiare un pochino meglio Questa è l'ultima volta che li compro E poi lo farò io con la macchina del pane C'è una domanda della nostra amica Chetti Ocetti Non so come si legga Ci dice Io ho il forno che mi funziona solamente a 60 gradi Quando devo cuocere a 180 Posso cuocere due volte? Andiamo avanti Cereali E quindi carboidrati per la colazione Ho comprato questo È fantastico Il crunchy muesli chocolate È buonissimo Se lo trovate Compratelo Perché è buonissimo Come carboidrato snack Invece Ho preso due confezioni Di rice Di bio rice cake In pratica le gallette di riso al cioccolato fondente Aspetta come si chiamano? Bio rice cake Vabbè Gallette cioccolato fondente Bravissima 1,19 euro Eh no 79 è perfetto 79 perché erano in offerta Molto 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 Buone E tra l'altro Sono un ottimo spezzafame Io ne mangio 1,5 a merendina E piacciono anche ad Enzo Poi 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 Basta Per quanto concerne Invece Frutta e verdura Ce la togliamo subito Ho comprato Un po' di fresco Alla Lidl Perché sì ragazzi È vero che vivo in Sicilia È vero che ci sono meravigliose Culture È vero tutto Quello che volete Ma è anche vero che io lavoro circa 10-11 ore al giorno Ho un figlio Una famiglia Quindi Una volta che entro in un supermercato Io tutto quello che posso comprare Lo compro E vi dirò di più Vero però impegni 10-11 ore E poi sei 3 ore in bagno Bravo E vi dirò di più Lui intende a truccarmi Non pensate cose strane Allora E vi dirò di più Giusto Specifica Perché sai in bagno si fanno anche altre cose Specifica Allora Vi dirò di più Ho preso anche delle verdure surgelate Perché io adesso attraverso un periodo di lavoro folle E non posso permettermi E non voglio permettermi Di rimanere a casa Senza un qualcosa che assomiglia anche vagamente a qualcosa dell'orto Ciò non di meno Che c'è? C'è niente Ciò non di meno Vabbè lui va con i suoi doppi sensi Non è vero Non è vero Io so Bene Dopo il doppio senso Allora carote XXXL Sì sì La misura Rocco Giusto? Chiamiamo così Quanto sei deficiente Allora Ciò non di meno Se durante i miei tribolanti viaggi passerò davanti al fruttivendolo Comprerò delle cose Perché già ho chiesto che cosa voglio I cavolfi No i broccoli I broccoli Voglio i finocchi E voglio della frutta Frutta davanti a me ce n'è tantissima Colta con le mie dolci manine In Campania L'hai rubata L'hai rubata Diccelo No no Guardate Questi sono i mandarini veri di Sicilia E questa è la grandezza Queste Quelli che crescono spontaneamente Va bene Non comprate roba dal Sudrafico Dalla Spagna Perché mi vengo a tirare la testa Allora Carote Rocco Le abbiamo già dette Sì E costano 0,99 La confezione Poi i limoni biologici ce li ho Però 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 Quando mi servono per pulire Per sgrassare Ho comprato anche questi Che comunque sono buonissimi E sono comunque Siracusani Quindi Sono ottimi Sono limoni primo fiore Tra l'altro questi sono quelli di cui si può mangiare anche la buccia Quindi hanno la buccia edibile Sono ottimi Poi Ho preso un tristissimo Ma buonissimo E buono E tanto triste quanto buono Cavolfiore bianco 1,79 euro Cioè a noi siciliani il cavolfiore bianco ci sa molto di triste Perché noi abbiamo quello viola Il bastardo Ma noi abbiamo cavolfiore che sono più grossi della tua testa Esatto Quindi insomma Questa è molto triste Lei ha la testa grossa ragazzi Non vi fate E attagliate i capelli La banana di Bologna La banana di Bologna La banana di Bologna La patata di Bologna Ve l'ho fatta vedere Adesso Adesso E dopo la patata Cosa può fare vedere Ombretta Non l'hai fatta apposta Non l'hai fatta apposta Fallo vedere Fallo vedere Ho preso anche Cosa hai fatto vedere Dai non ti vergognare Non ti vergognare Sei zucchina La zucchina Belle grosse anche queste Certo Giusto Allora Sei zucchina Per la mia vellutata Un chilo e otto quasi Carote Patata Zucchine Il tripudio Alla baccia della zucchina Il tripudio Faremo una pasta con questa zucchina No faremo una cremosa Poi Pere 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 Non ho preso solo queste pere Non le vedo le altre Ci sono queste Ho preso queste che erano le Angelis E ho preso anche 2,49 euro E le altre Le Kaiser Sì Che Kaiser dici Sì le Kaiser 800 grammi Opera la pera Kaiser 1,79 euro Le pere non convenivano molto Però mi servivano Perché non tanto come frutta Ma da mettere nelle insalate Con le noci Il parmigiano reggiano Il grafadano Poi Ho preso 2 pomodorini Di pacchino Allora Pacchino Come si riconosce il pacchino Gambo E pomodorini Attaccati Ah sì C'è scritto fuori Sì c'è scritto IGP Tutto quello che volete Però se non volete Prendere fregature Siccome Le imitazioni Arrivano ovunque Dalla Cina Dalla Cina Sappiamo che arriva Roba dalla Cina Esatto Gambo E pomodorini Attaccati In pratica Il pacchino Oramai Lo trovate Solo così Il pacchino originale Aspettate Vi faccio Tolgo il sigillo Andiamo Facciamo una prova assaggio Posso? No Aspetta Faglielo vedere I nostri amici Ecco Arriva Così A grappolino E fa un profumo Pazzesco Come appena colto Benissimo Il cilettino 1,59 euro La confezione Polpa di pomodoro In latta In barattolo Bio I tagliamo E poi Passata Mutti In bottiglietta 1,49 euro Bravissimo Passiamo ai surgelati Come vi avevo anticipato Ed ecco qui Spinaci in foglie Questi sono buonissimi Un chilo di spinaci Costano pure pochissimo 1,39 euro Poi Un minestrone Che a me piace tantissimo Sono le verdure per minestrone Questo viene un minestrone Super light 1,49 euro 39 calorie per 100 grammi Ed è questo Della fresciona Questo verdure per minestrone Quella fresciona Chissà quante ne può raccontare Di avventure E poi Ultimo pacco Broccoli I broccoli 1,69 euro Questi veramente Per emergenza Perché io li unisco Al minestrone Dove invece ci sono Soltanti i cavolfiori Frullo tutto E viene buonissimo Bravissimo Continuiamo con i surgelati E continuiamo adesso Con le proteine Allora Per Non so se per secondo O come Compendio A una cremosa Non lo so A una vellutata Ho preso Le mazzancolle Tropicali Code di mazzancolle Sgusciate Scottate E congelate Queste sono molto buone Rimpiccioliscono Relativamente Certo Rimpiccioliscono Ma comunque Il gamberetto Si trova 3,79 euro Il pacchetto Sono un po' più costose Ma sono buone Fate conto che io Una confezione La uso per una persona Perché è soltanto 200 grammi Freezer Poda di rospo No Come Secondo Voglio fare Il filetto Di baccalà Salato E voglio adesso Di salarlo E domani Prepararlo Credo con patatine E cremosina Di ceci 3,99 euro La confezione Deve essere buono Vediamo Io non amo tanto Il baccalà Ma recentemente Ne ho provato L'ho provato Con una ricetta Che mi è molto piaciuta E voglio riproporre Se viene buona Ve la facciamo vedere Bravissima Per le cotolette Di Enzino Non ho trovato Il petto di pollo Ho preso La fesa Di 3,99 euro Tra l'altro 450 grammi A un ottimo prezzo Poi Allora Per la piccola Di casa Buclé Una vaschetta Di macinato Di bovina 3,49 euro Che io la uso Per bucle Ma è buonissima Perché è nettissima Anche per Per le persone Poi I formaggi E qui La vera virata Ho preso Un pezzo Ce l'ho qua il prezzo Un pezzo Di grana padano 6,65 euro Userò Le bucce Per fare le zuppe Invece Il dentro Per mangiarlo Sia l'insalata Che Grattugiato Nelle vellutate Poi Sempre per le vellutate Ho semplicemente Spalmato sul pane Ho preso Dello straccino 1,19 euro Della marca Merivio Ed è buono Solo latte italiano Poi La feta Buonissima 1,69 euro Questa qui E poi Ho preso 4 5 Mozzarelline Le hanno aumentate Di 10 centesimi Ieri Vedevo Un documentario Dove Dicevano Parlavano Della vita In Germania E dicevano Che in Germania La Lidl O degli emigrati Parlavano Di quando fanno La spesa qua E quando fanno La spesa là Con 70 euro Qua si fa oramai Un carrello normale Lì se ne fanno Due e mezzo Dicevano Una cosa del genere Per colazioni Spuntini E Sfizi Ho preso Lo skir Alla vaniglia Naturalmente Per me Anche se Lo skir Alla vaniglia Non mi piace Così tanto Come Ingredienti Perché non ho capito C'è al terzo ingrediente Un amido Modificato Ma l'amido Modificato E l'amido Geneticamente Modificato Di mais Ho paura di sì Ho paura di sì Infatti ho preso Solo questo Perché prima Aspetto la vostra risposta Aspetta la vostra risposta Sì Poi delta Delta Via Poi nella delta Invece Ho preferito Orientarmi Su yogurt greco 0% Sempre per me Da mangiare 1,29 euro Da mangiare con Quel muesli Buonissimo Che vi ho fatto vedere Questo è solo Latte scremato E fermenti lattici vivi Quindi non si può sbagliare A Gabriele Che volete ragazzi Io l'ho preso Al pistacchio 1,29 euro E Gli ingredienti Non sono male Diciamolo Yogurt 80% Di latte scremato Fermenti lattici vivi E poi c'è la preparazione Di pistacchio Che è il 20% Fatta di zucchero Amido di tapioca Pistacchio Concentrato Di spirulina Spirulina Di cartamo Non fanno cose brutte Anzi Aromi naturali Penso la spirulina Serva per il colore Aromi naturali Contiene Arachidi E sesamo Non si capisce Perché Ma il pistacchio c'è? Sciroppo sì Sciroppo di zucchero Caramellizzato Correttore di acidità Non è che non so leggere Che è scritto Piccolissimo Eccetera Eccetera Insomma Quello Capite quanto gli ingredienti Siano di più Basta che ci sia un gusto dentro 1,29 euro Quello alla nocciola E poi Idem Alla nocciola Questo lo provo io però Bravi Sì Abbiamo finito Vi ringraziamo Chiudiamo Con l'aceto Di vino bianco Che avevo finito Diciamo Quanto costa L'aceto Costa 65 centesimi E poi A 35 centesimi Ho preso Anche la farina Di semola Rimacinata Di grano duro Molto molto buona Questa farina Quindi acquistata Siamo contenti Allora tutto questo bel popò Di spese Che avete visto Più due cassette di acqua Più due cassette di acqua Brava Dei comparti per mia mamma Che non ho voluto inserire Perché non sono per niente Da buoni propositi Dei comparti in che senso Per metterla dentro Dentro una scatola La mortadella Il fuoco Quello che le compro sempre Le l'ha voluto Ma non è per noi Tutto questo popò Di spese È costato 94,63 euro Compreso il sacchetto Bio Da un centesimo E sono ben due I sacchetti bio Bene bene Come disse il vecchio saggio Non ti incavolare Per il sacchetto Tanto lo pagavi anche prima Brava Incavolati per le cose serie Quindi bene Noi ci rivediamo sempre qui Vuoi dire qualche cosa? Vuoi raccontare un tuo aneddoto Per favore? Spero che Patata e zucchina Non è colpa sua Non lo fa apposta Quindi Neanche tu scommetti Non lo faccio Neanche io apposta E quindi Noi vi ringraziamo Per aver seguito Con molto entusiasmo Questo video Speriamo di vederci Sono tu c'è entusiasmato Sì sì Sono tu c'è Lo dico io Ci rivediamo sempre Come ogni giorno Per dare buongiorno E quindi Noi ci rivediamo sempre qui Sulle vostre tavole Ciao Ciao Ciao